Sono 16 di cui 3 paritari alle scuole piemontesi che riceveranno i contributi dalla regione dedicati a promuovere esclusivamente percorsi finalizzati all'acquisizione in classe della lingua dei segni. Un'azione è fortemente voluta dall'assessore all'istruzione Elena Chiorino, che ha visto un investimento regionale di 237.000 euro, il cui obiettivo principale è quello di non lasciare indietro nessuno dalla scuola al mondo del lavoro. L'iniziativa infatti vuole sostenere tutte quelle realtà e centri didattici specializzati nella disabilità sensoriale, nate proprio per rispondere alle esigenze degli studenti sordi e supportare le scuole del territorio. L'obiettivo comune continua all'assessore a battere le barriere della comunicazione e favorire l'integrazione delle persone sorde nella vita collettiva a partire dalla scuola. Tra le scuole che hanno partecipato al bando dello scorso anno emerge l'istituto comprensivo di Cossato, pioniere del bilinguismo italiano LIS, nell'integrare i bambini sordi nella scuola comune, a seguire l'istituto dei sordi di Pianezza ed ancora l'istituto superiore Magarotto di Torino. Per quanto riguarda la provincia di Biella naturalmente una parte dei fondi sarà dedicato all'istituto comprensivo di Cossato.